Ennesimo sequestro di piante di marijuana in provincia di Napoli dopo quelli sui monti lattari questa volta ad essere ispezionato e passato al setaccio è stato il territorio flegreo. I carabinieri della stazione di Licola in un'operazione scattata all'alba hanno sequestrato numerose essenze arbore provveduto al sequestro di stupefacenti già pronti alla commercializzazione e arrestato una persona. Le piante erano occultate in una serra dove la mire di alluminio come pareti assicuravano quell'effetto necessario ad essiccare in fretta i germogli di cannabis posizionati sui filari di spago sistemati in modo da favorire il filtraggio dell'aria. Poi tavolo di legno coperto da reti verdi per l'ultima fase del trattamento appena prima del confezionamento. Un capanno al cui interno la temperatura era soffocante all'arrivo dei militari come l'odore della marijuana che infestava l'intera campagna circostante. I carabinieri della stazione di Licola hanno scoperto e sequestrato il laboratorio casalingo in via Madonna del Pantano nel comune di Giuliano in Campania. Attorno alberi di pesco e fusti di cannabis. Arrestato per la produzione e detenzione di stupefacenti il proprietario del fondo, un incensurato di 62 anni. 632 le piante estirpate e distrutte, 150 i chili di marijuana già essiccati e posti in sequestro. Recuperati anche ventilatori, cesoie, un generatore di corrente utilizzato per la coltivazione. Il 62enne è attualmente in carcere in attesa di giudizio.